Scadenza, il primo semestre del 2024, l'obiettivo chiudere il centro-centro alle macchine private a circolare nella nuova ZTL un piccolo spicchio tra il quadrilatero della moda, Corso Matteotti, via Caserotte fino a via Manzoni, saranno solo taxi, mezzi pubblici e noleggi con conducente. Ad annunciarlo è il sindaco di Milano Beppe Sala che vede nella nuova viabilità un piccolo passo storico dal quale poi prendere il via per misure anche più drastiche. Non abbiamo ancora una data perché stiamo facendo un po' di verifiche di viabilità, è una misura su cui ho discusso a lungo con gli esponenti soprattutto delle case di moda che sono interessati, però devo dire con onestà ho trovato molto consenso sulla cosa. Qualcuno dice addirittura pedonalizziamo, chissà se in futuro ci si potrà arrivare, ma è una misura a mio giudizio che non toglie molto ma che aggiunge tanto perché è significativa e detta un altro passo nel nostro modo di procedere. Il perimetro della nuova ZTL del centro sarà così monitorato da delle telecamere che controlleranno gli accessi. In corso Venezia dall'altezza e dall'incrocio con via Senato, ecco in via Senato ci saranno delle telecamere, le telecamere registreranno i passaggi. Le macchine private non potranno entrare a meno che sono macchine di qualcuno che vive all'interno e possiede un garage o a meno che sono macchine di chi poi va a parcheggiare nei parcheggi. Lì ci sono altre telecamere, rileggono la targa e annullano la potenziale multa. Una notizia che di certo non passa sotto silenzio. Dalla destra arrivano infatti le prime polemiche, con l'eurodeputata e consigliera comunale della Lega Silvia Sardone che non si risparmia. L'ennesima genialata del sindaco Sala commenta alla Sardone una misura per tenere lontani i cittadini che hanno la colpa di non abitare in Brero a San Babila. Le fa e col consigliere del carroccio Samuele Piscina che si dice più preoccupato per il futuro. Ciò che ci preoccupa, scrive infatti in una nota, è che Sala già parli di un futuro allargamento dell'area chiusa al traffico. è infatti evidente dove voglia arrivare allo stop totale del centro storico o di gran parte di esso alle autovetture.